La nuova Serie 7 TTV rappresenta le vede naturali della precedente che tante soddisfazioni ci ha dato in passato. Come la precedente la Serie 7 TTV è composta da due modelli e si colloca a cavallo tra la Serie 6 TTV che arriva a un massimo di 230 cavalli e la Serie 8 TTV che arriva a 287 cavalli. Il nuovo 7250 con fronto al predecessore avendo gli stessi cavalli in realtà ha una copia molto più generosa stiamo parlando circa di un 10 per cento in più. La differenza principale però è data dal cambio della trasmissione con la nuova trasmissione possiamo raggiungere i 60 chilometri all'ora a 1.830 giri un vantaggio incredibile. Un bel risparmio di carburante che però non ha inficiato la capacità di trazione addirittura superiore rispetto a quella dei modelli precedenti. Il nuovo 7250 a confronto ai precedenti e alla concorrenza ha una capacità di olio circa di 210 litri unica nel suo genere e una capacità di prelevamento di 90 litri per le attrezzature esterne. Nel segmento dei trattori da 250 cavalli la Serie 7 offre il meglio sul mercato scoprite con noi perché.